Buongiorno a tutti ragazzi, confermato ieri il nuovo allenatore del Benevento anti di questo circo è Andrea Costinelli, amico del nostro presidente, ex commentatore di Offside il lunedì dopo le partite del Benevento, un allenatore che non ha allenato ben 11 anni in Italia, l'ultima esperienza era nel calcio a Malta, grandissimi campionati lo sapete tutti, quindi farà una rivoluzione ragazzi, cambierà tutto, adesso veramente può succedere di tutto, quindi stay tuned e nulla benvenuto mister e speriamo che riesci a cambiare qualcosa in questa banda di mercenari detto ciò sempre Forza Benevento e solo per la maglia